Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cam accesi. Penso che negli ultimi anni noi stiamo vivendo in due mondi completamente diversi. Uno è il mondo esterno, e dopo c'è un mondo che è una specie di sottosopra, per parlare alla Stranger Things. Può succedere che nel mondo esterno un ambulante, un venitore ambulante, venga massacrato a mani nude da un pazzo furioso. E chiaramente tutta la scena è stata ripresa dal classico telefonino. Cosa succede nel sottosopra, nell'altro mondo? Nell'altro mondo al solito succede che i commenti sono tutti del tipo, ma come? C'era gente e non hanno fatto niente, ma come? C'è stata indifferenza, perché non hanno fatto niente? Potevano salvargli la vita. Per finire con il classico, ah se ci fosse stato io, l'avrei sicuramente messo K.O. Eh la fortuna del pazzo era che non c'ero io. Così dicono. Quindi da un lato abbiamo un fatto terribile, chiaramente ripreso da un telefonino, tra l'indifferenza delle persone, e dall'altro, nell'altro mondo, abbiamo una marea di commenti che condannano sta cosa, l'indifferenza della gente, dicendo che se ci fossi stato io avrei sicuramente fatto qualcosa. Quindi, nel mondo esterno non fanno niente, nel mondo interno, nel sottosopra, tutti avrebbero fatto qualcosa. Succede che nel mondo esterno due ragazzine vengono travolte da un treno. Nel sottosopra, succede che arrivano commenti del tipo, a che ci facevano le ragazzine là? Non erano troppo giovani? E perché i genitori non vigilavano? Mi sa che si dovrebbero sentirsi un po' in colpa. E commenti del genere. Quindi, mondo esterno, due ragazzine purtroppo vengono travolte da un treno. Nel sottosopra, criticano la famiglia, criticano la gioventù d'oggi che è troppo libera, troppa libertà e cose del genere. Nel mondo esterno, succede che nel mondo esterno i casi di violenza contro le donne crescono di giorno in giorno. Ogni giorno sul giornale ci sono casi di donne ammazzate e cose del genere. Nel mondo interno, da sottosopra, è pieno di post, soprattutto quando c'è la giornata mondiale contro l'avienza sulle donne, di uomini che dicono che le donne non vanno toccate, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, nel mondo esterno, i casi aumentano. Nel mondo interno, da sottosopra, tutte le persone sono contro, sempre di più, post, contro la violenza sulle donne. Nel mondo esterno, i matrimoni falliscono, ci sono sempre più divorzi. E cose del genere. Nel mondo, nel sottosopra, c'è sempre più gente che dice, cerco il vero amore. L'amore per tutta la vita. Voglio un uomo, voglio una donna, che sia per sempre. E' questo il mio ideale di vita, un amore. Una persona che mi voglia bene, che mi rispetti, che mi ami. Appunto, nella vita reale. I divorzi sono alle stelle. E sinceramente potrei continuare così con tantissimi altri esempi della diversità che c'è tra la vita reale e quella dietro, una tastiera. La domanda che mi faccio è, qual è, alla fine, il vero mondo? Perché è semplice dire, il mondo vero è quello esterno. Però mi sembra che ci sia un bel po' di confusione. E buonanotte. E buonanotte. E buonanotte. Grazie. Grazie.